Benvenuti ma anche Benvenuti e bentornati a una nuova puntata di The Drive da Luca Rossi Anche per questa puntata vogliamo ringraziare Adult Magazine per la collaborazione Ma anche The Cutting Edge Radio, fantastico contenitore di podcast sugli sport americani ma non solo Allora dovete sapere che un giorno Giorgio mi ha scritto un messaggio Io e lui ci confrontiamo settimanalmente su cosa trattare The Drive Perché la season NFL ormai come sappiamo è archiviata da tempo È archiviata la Combine, siamo in piena free agency Insomma la prima ondata di free agency è passata, c'è stato il draft E l'estate sta arrivando Anche se quest'anno se vogliamo è mascherata di autunno Ma credo che non ci sia nulla di più bello che rilassarsi in spiaggia o magari in montagna Con un bel libro Così io e Giorgio ci siamo fatti due calcoli Soprattutto Giorgio si è fatto un calcolo E volete un consiglio su un libro davvero ma davvero bello? Adolome Music Scritto a quattro mani da Alex Cavatton e Francesco Porcello Perché questo è un libro che parla di football e parla di musica E mischia insieme quindi le due cose se ci pensiamo bene È una miscela incredibile, molto bella E noi di The Drive su un tema di questo tipo abbiamo deciso di fare una super puntata È incredibile, gli autori del libro sono qua Benvenuto, anzi bentornato ad Alex Cavatton Grazie ragazzi e buonasera a tutti Grazie dell'invito Alex Cavatton, ricordiamo autore di diversi libri Prima dello Snap, a parte Adolome Music Anche Winners Out, Sport e Gloria della New York degli anni 70 Raptors Mania e chi più ne ha più ne metta Poi dopo ne parleremo diffusamente Un saluto anche a Francesco Porcello Ciao Luca, ciao ragazzi, grazie per l'invito Francesco che troviamo con le sue splendide analisi Settimanalmente sul mondo Vikings in Purple Valhalla Allora dunque, prima di proseguire saluto il regista Arbito di The Drive Un uomo che ha trascorso la sua vita tra i neferi, i castiti grati Anche CD dei Metallica Ciao Giorgio, Prunotto Ciao a tutti, sono molto contento di fare questa puntata Ci tenevo tanto Il tema è un libro eccezionale Ma non solo perché lo trovate anche nelle varie rubriche che hanno fatto di Adel Magazine E veramente la musica si sposa benissimo con la NFL Quindi quale occasione migliore che avere due ospiti del genere esperti sull'argomento Bene, 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 scendiamo subito negli spogliatoi In un minuto, anche se so che non è così facile Raccontateci come nasce la passione per la vostra squadra del cuore Comincia Alex Beh, la mia passione per la squadra del cuore è piuttosto nota Sono nato a Milano, sono rosso-nero L'appassionato di storia Devo dirvi, Cicago Bersa Sono stato l'unico elemento al di fuori della scena New York L'unico elemento sportivo al di fuori della scena new yorkese Alla quale sono sempre stato molto legato Che poi alla fine del football americano mi ha strappato il cuore Un po' per via delle storie legate ai Bersa dell'85 Che a differenza di qualcuno qui un po' più fortunato di me Non sono riuscito a vivermi, vero Frank? E poi, insomma, tutto quello che è la storia, la tradizione del football americano a Chicago Personaggi come Dick Butkass, piuttosto che William Perry Piuttosto che Walter Payton Ecco, studiandoli sono quelli che poi mi hanno davvero colpito di più E fatto appassionare al mondo Bersa Francesco, come mai proprio i Vikings? Eh, mio papà, che purtroppo non c'è più Lavorava per l'IBM E quindi al termine del periodo delle scuole medie Lui ha ricevuto un'assegnazione internazionale Credo si chiamasse una cosa del genere Per la quale ho passato praticamente tutto il periodo del liceo negli Stati Uniti E la fabbrica sede principale dell'IBM È a Rochester nel Minnesota Quindi ho fatto tutto il periodo del liceo lì Mi sono appassionato al football Ho cominciato a giocare al liceo E ovviamente a un po' a seguire tutto ciò che è il movimento del football Nello stato del Minnesota Sarebbe stato meglio magari se fosse stato, non so, nel New England Ma questa fabbrica dell'IBM Visti, insomma, i risultati da allora Visto che, come ho scritto anche nel libro Sono, come si dice, sono orgogliosamente papà di cinque NFC Championship Games Di seguito E, come si dice, ringrazio Alex che mi ha ricordato Io ho vissuto il suo Super Bowl, non il mio, nell'85 E, tra l'altro, come ho raccontato più volte I Vikings sono più giovani dei Green Bay Packers E dei Chicago Bears Che sono due squadre storiche Quindi il Minnesota era pieno di Pieno di, in particolar modo, persone magari un po' più adulte Tifose di Green Bay e dei Bears Quindi l'ho vissuta molto da vicino Il Championship dell'85 Avrei dovuto capire che le cose non andavano bene Perché quando io sono arrivato nell'84 Si stava ritirando Bud Grant Noi eravamo praticamente Non lo vincevamo Ma almeno, insomma, eravamo Eravamo relevant E arrivavamo sempre quasi fino in fondo E poi da lì, insomma, le cose Hanno incominciato a non andare così bene Però, ragazzi, non vi devo dire niente A voi e agli ascoltatori che non sappiate già Ti diventa una specie di seconda pelle Io non riuscirei a immaginarmi Se non pazzamente tifoso di questi Vikings Come ti capiamo Grazie mille per queste testimonianze Non ci resta che dall'inizio della sfida Partendo con la prima rubrica Lo sguardo al passato Una domanda, una per ogni sfidante Vero o falso su temi storici O di carattere generale dell'NFL La risposta esatta segna due punti Cominciamo da Alex Allora, allora, caro Alex Se io penso ai Bears Davvero, ne abbiamo già citati Non riesco a prescindere da quei Bears del 1985 A noi di The Drive, come vedi Piace vincere facile Tutto quello che vuoi Ma quella squadra resta qualcosa di mitologico Ed è, secondo me, esercizio vano Citare i nomi di quell'incredibile team Però, se ragioniamo sui collegi di provenienza Quella squadra vedeva la presenza Di ben sette giocatori provenienti da Florida State Secondo te è vero o falso? È falso Falsissimo Perché era anche questa una caratteristica particolare Erano rappresentati ben 36 università Solamente Clemson ebbe più players In realtà due Uno il quarterback Steve Fuller E l'altro, sua maestà William The Refrigerator, Perry Bravo Alex Francesco, tocca a te Il 12 dicembre 2013 12 dicembre 2013 I Vikings pubblicarono la formazione ideale Del Mall of America Field at the Metrodome Formata dai migliori giocatori Che hanno vestito la maglia della franchigia Nell'arco di tempo compreso tra l'82 Quindi la prima stagione disputata Nello stadio di Minneapolis E il 2013 Ultima stagione prima della sua demolizione I nomi danno sensazioni altissime Però guarda Ne pesco uno a caso Numero 80 Chris Carter Uno dei numeri ritirati Se penso a Carter Mi viene in mente il termine prolifico Damun, Cunningham, Jim McMahon Tutti hanno trovato in Carter Un target ideale se vogliamo Ed è uno dei soli otto atleti Nella storia dell'NFL Ad aver superato le mille ricezioni in carriera È vero o falso? Vero, vero Verissimo, bravissimo Sapevo che non ti avrei fregato Vero Perché oltre a detenere il record di franchigia Genniardi Cevuti Lui termina il secondo posto Dietro Jerry Rice Per ricezione in carriera Il 1101 Touchdown 130 Segnati da un wide receiver Poi questo record era stato battuto Da Mervyn Harrison Dei Colts Che supera Carter Per il secondo posto Giorgio Vuoi fare un riassunto? Allora Luca Qui abbiamo due professionisti Li abbiamo fatto la domandina Giusto per scaldarli Ma ovviamente Non li riusciamo a fregare Così facilmente Per cui la situazione Unplanned per entrambi Due a due E via andare Col proseguo del gioco Eh certo Blocchiamo un attimo il gioco Apriamo la tavola rotonda Perché nel vostro libro La prestazione di Andrea Rocca Inizia dicendo Che ci sono solo due modi Per orientarsi Lui nella vita La musica e lo sport Cosa rappresentano questi mondi E da dove nasce l'idea Di articoli poi raggruppati nel libro Per chi non conosce Il libro Vorrei che facesse anche una presentazione Di cosa parla questo libro E soprattutto come nasce Un libro di questo tipo Che tipo di gestazione E soprattutto Che tipo di sintonia Avete trovato Direi di far cominciare Alex Io invece ti direi Di far cominciare Frank Perché l'idea Del magazine È di Frank È Frank che ha proposto Di fare questo lavoro insieme Alex sta dicendo Che quindi le royalties Sono state dedicate Tutte a te In sostanza Eh sì In realtà La collaborazione è nata Con il libro precedente Di Alex Che è prima dello snap E diciamo Che la nostra conoscenza Lavorativa È nata lì Perché lui mi ha chiesto Un contributo Sul pezzo Sul Randy Moss Che per me È una specie di divinità E Al di là dell'amicizia Che ci lega Io ho sempre trovato Estremamente facile Lavorare con Alex Nel senso che Più che un confronto La nostra è quasi Una conferma Delle cose Che abbiamo pensato E abbiamo scritto Nel senso che C'è stata Molta sintonia E quindi La mia idea Era quella Di appunto Di legare Come ha detto Andrea Rock Le due cose Che più di tutto Mi fanno impazzire Nella vita Che sono proprio La musica E il football La mia idea Era quella Di scrivere questi articoli E poi Pubblicarli su Adol Mentre poi Invece L'idea Di raccoglierli Nel libro E qui quindi Cedo la parola Ad Alex E appunto Del dottor Cavatton Dunque Con Frank Abbiamo Fatto questo Meeting Questo incontro Per vedere insieme L'ultima partita Di stagione Tra i Bears E i Vikings Organizzando Questo raduno Per le due Fanbase italiane Che poi sono andate D'amore e d'accordo Fortunatamente Ed è andato Tutta alla grande Durante la post season È nata L'idea Appunto Proposta da lui Il fatto di provare A combinare Dei momenti storici Legati Comunque Alle città Le franchigie Delle città Americane Provando comunque A creare Questo dialogo Con delle scene Musicali Peraltro Ecco Di diversa natura Di diversi generi Che poi è stata La cosa un po' Più divertente Perché andare a trovare Esattamente Il momento Che volevi Abbinarlo A una band Dello stesso periodo O comunque A un percorso musicale A una ricerca musicale È stata Tanto divertente Quanto difficile A tratti Alex Vorrei farti Una domanda Più dettagliata Perché l'amore Che trasmetti Verso la città di Chicago È evidente Nei tuoi articoli Nel tuo modo Insomma Nei tuoi pensieri Lo si percepisce proprio Il capitolo 31 del libro È dedicato Alla Windy City Parli Tra l'altro Di Frankie Knuckles Come anche Ha reinventato La Black Music Ma che rapporto Secondo te Anche in base All'esperienza Che hai vissuto Proprio in quella città Che rapporto c'è tra Chicago E la musica E quanto per te Sono importanti I versi In questo tipo di contesto Dunque È una bella domanda Ed è un qualcosa Che in un certo senso A me ha creato Disorientamento Se ti devo dire la verità Perché a seconda di quella Che è diciamo La condizione sociale O se vogliamo dirla Ancora un po' più cruda Il colore della pelle Sostanzialmente Chicago vive Di due scene musicali Il rock Proprio Possiamo Prendere anche Allo stato più crudo Della suonatura Rock pop In generale Questi Questi generi Sono molto apprezzati In particolare Al Nord Di Chicago Mentre comunque La parte un po' più black È legata al rap Io arrivavo Sono trasferito a vivere A Chicago Nel 2015 Dopo anni e anni E anni Di collaborazione Con artisti Legati appunto Alla scena Dell'House Music Dell'ACED Della Garage Purtroppo Non ho avuto La fortuna Di lavorare Con Frankie Knuckles Mi sarebbe piaciuto Molto Però Ho conosciuto Pionieri Anche del genere Assolutamente Di Chicago Come Ron Trent Come Williams Per citarne alcuni Theo Parrish Eccetera E sostanzialmente Ecco Una volta arrivato lì Ho scoperto Che il genere Era un qualcosa Proprio di nicchia Allo stesso modo Come poteva esserlo qui Mentre noi esaltavamo Dall'Italia Certe figure E lì poi Le ho trovate Quasi un filo Trascurate Proprio A favore Della scena Diciamo Un po' più commerciale Legata al rap O al rock Francesco L'ultimo capitolo Insomma del libro Nell'ultimo capitolo Si arriva a Minneapolis La scrittura di questi articoli Sono stati da te Definiti un'esperienza forte Addirittura catartica Tu usi questo termine E ripercorrendo il percorso Di questa gloriosa squadra E pensando alla città Non può che saltar fuori Il nome di Prince E so che tutti Magari in questo momento Già sta scattando nella testa La musica di Purple Rain Cosa vuol dire Essere un tifoso Vikings Di lunga data E quanto la musica Caratterizza la città Del Minnesota Secondo te Allora Musicisti famosi Il Minnesota È uno stato abbastanza piccolo Nel senso che Non supera Se non vado errato I 5-6 milioni di abitanti Che insomma Rispetto ad altri stati Degli Stati Uniti È veramente Una Come si dice Una briciola Però ha una fortissima Corrente Indie underground Che non è nata In tempi recenti Ma va avanti Dagli anni 70 Da gruppi come I Replacement Ce ne sono Ce ne sono Tantissimi Proprio Che Che vanno Fino ai giorni nostri Il catalizzatore Però Della musica Dello stato del Minnesota È Prince Che tra l'altro Così Ha un'attenta osservazione Noterete Usa tantissimo Il viola e oro Nei suoi Usava Scusate Tantissimo Il viola e oro Nei suoi costumi Come ho accennato Nell'articolo Era un Un Ferocissimo Tifoso dei Vikings Se avete presente Il personaggio Cioè Prince È una delle figure musicali Più schive Della storia della musica Se vi capita di guardare Quello splendido documentario Su Netflix Su come è nato We Are The World La canzone Raccontano Un po' come questi musicisti Fossero stati messi insieme E se ci pensate L'unico musicista Importante Della metà degli anni 80 Quindi Dell'epoca Di We Are The World È proprio Prince Perché Prince Aveva mandato Praticamente Aveva detto Sì ok Ci sono Però io la mia chitarra La suono in una stanza Da solo Non voglio stare con gli altri Era molto E non lo faceva Per questioni Di protagonismo Ma semplicemente Perché era davvero Una persona molto Complicata Con un carattere Molto difficile Molto introverso Ebbene Una persona così schiva Così lontana Dalle Diciamo no Dalle luci della ribalta Aveva la sua suite Allo stadio Veniva a seguire Le partite dei Vikings Era un tifoso E come Ho accennato Nell'articolo Aveva anche scritto Un inno Che si chiama Purple and Gold Che però poi Non ha attecchito Perché i Vikings Hanno deciso Di tenere la vecchia Skull Vikings In questa parabola Un po' triste Perché poi lui Insomma Fa una brutta fine E tutto quanto Ci vedo tanto Di Vikings Ci vedo tanto Di sogni Che poi Non si materializzano Si soffocano Un po' come Quando fai Quei bei sogni La notte E poi ti svegli E ti rendi conto Appunto Che stavi sognando Ecco Quindi Sebbene Giustamente Alex Mi ha detto Pensaci proprio Alla scelta di Prince Perché la più ovvia Ragiona Se vuoi mettere Qualcuno O qualcosa Di più Diciamo alternativo Però per me Prince Sono i Vikings E i Vikings Prince Sono i Vikings Della musica Ecco D'accordissimo Non si può Prescindere Effettivamente Alex Io invece Ti volevo fare Una domanda Perché Un po' so Della tua attualità Quanto la musica Nella tua vita Di oggi Sta influenzando E che progetto Hai in ballo Perché è una cosa Interessantissima E voglio sinceramente Che anche i nostri ascoltatori Ne siano a conoscenza Beh Insomma Giorgio Chi mi conosce Sa che Io ho sempre vissuto Due vite parallele Una Quella notturna Legata alla promozione Di eventi Sostanzialmente Alla musica In particolare La musica elettronica E A questo punto Della mia vita Ecco Ho deciso Che Di Dedicare più spazio A questa passione E quindi Vabbè Tramite Un discorso di collaborazioni Che sono nate In maniera molto spontanea Ci siamo trovati Con degli amici A Appunto Avere la possibilità Di dare la consulenza A un negozio Che si chiama Da Orient Proprio È Un concept bar Che si trova a Milano E Abbiamo appunto L'opportunità Di condividere Un boot Una console Un angolo Un angolo Di felicità È una boutique Della musica Che tratta Appunto Vinili E Abbiamo scelto Bene o male Di Promuovere Quelli che sono Gli articoli E i generi Che ci piacciono suonare Dal jazz Alla jazz Dal bugia Alla jazz Music C'è una parte Anche dedicata Comunque Alla techno Insomma Ricerche Oggi sono arrivati Un paio di scatoloni Da Detroit C'è una bella ricerca Legata appunto A quello che è La scena Di pause Con appunto Tutte quelle venature Che vanno Da Detroit A New York A Chicago Principalmente Però poi Ci sono collaborazioni Aperte anche Con un sacco Di label E con artisti italiani Ci sono Dei jazzisti Incredibili Che hanno Prodotto Lavori davvero Spettacolari Come Samuele Struffaldi O Tommaso Cappellato Che sono due Che ho preso Particolarmente a cuore Per i progetti Che hanno comunque Creato Nelle loro carriere Insomma C'è una bella scelta E poi Non manca comunque L'afrobeat O la broken beat Qualcosa di jazz classico Insomma Siamo Siamo lì Ecco Queste sono un po' Le nostre Le nostre note Ricorda l'indirizzo esatto Così ti vengono a trovare I nostri amici Giale Montello 8 Perfetto Mi raccomando Ricordatevelo E passate a trovarle Invece Frank A te volevo chiedere A me quello che ha stupito Del libro È vero che eravate in due Ma la varietà di generi musicali E veramente Ci va una conoscenza Enciclopedica Nella tua vita Come è cambiato Il tuo gusto musicale E alla fine Hai avuto Un filo conduttore Oppure Proprio Il libro Rappresenta bene Questa tua capacità Di variare Da un genere All'altro Senza precluderti Nulla Credo che Un po' tutti Poi alla fine Abbiamo dei gusti Che rispecchiano La vita E le esperienze Che abbiamo fatto Un po' Un po' Per il lavoro Di mio padre Un po' Per il mio Come Come ufficiale Dell'esercito Io ho girato tantissimo Sia in Italia Che in Europa E poi un po' In giro per il mondo E credo di avere Preso un pochino Un po' Di tutto Dappertutto Quindi dalla musica Classica Che mi è stata Praticamente Iniettata nelle vene Durante la mia infanzia Dai miei genitori Che erano Molto appassionati Ai grandi cantautori italiani Che anche apprezzo Tantissimo Lì era un po' Difficile Però la connessione Per il Con il libro Al Poi al Bluegrass Al country Al A molti generi E Diciamo Che un po' Ho cercato anche Qualche volta Di Non andare Sulla prima scelta Proprio per la cosa Che hai detto tu E cioè Di proporre Nel libro Generi Musicali Diversi Cercando un pochino Di Anche Di Come posso dire Di completare Con le mie scelte Quelle che Quelle che erano Le scelte di Alex Quindi Diciamo Cercando di spaziare Però devo dire Che Per Per Chiudere il tutto Quando mi chiedono Qual è il mio genere musicale preferito Dico sempre Che non ce l'ho Basta che la musica sia Buona Mi piace un po' Di tutto Bene Grazie mille Chiudiamo la tavola rotonda E torniamo al gioco Anzi Stravolgiamo un po' La scaletta Perché The Drive Accoglie Numerosissime lettere Io e Giorgio Passiamo le serate A smistarle Ma due Questa volta Hanno colpito La nostra attenzione Perché Casualmente Una è di un tifoso Bears E una di un tifoso Giovanissimo Vikings Iniziamo da quest'ultima Quindi mi rivolgo a te Francesco Buongiorno The Drive Sono un giovane tifoso Vikings Ancora indeciso Però se consolidare Questa fede O guardare altrove Così approfittando Della presenza di Francesco Che io conosco Essendo un grande fan Di Parco a Valla Devo prima dissipare Alcuni dubbi Così Diciamo Parliamo anche un po' Dell'attualità Butto lì due domande Ma insomma Come ti aspetti La gestione di McCarthy Un anno dietro d'Arnold O subito in campo E poi Questo Justin Jefferson Che fa? Lo firma il contratto E a che cifre? Grazie mille La firma Aspetta che la leggo Ah tale Alessandro Taraschi Non conosciamo Non conosciamo Non conosciamo No Deve essere Sì deve essere molto giovane Perché il nome Non mi dice niente Allora Due Rapidissimo In merito Alla gestione Di J.J. McCarthy Io credo Che lui abbia bisogno Di un lungo periodo Di sviluppo Ne abbiamo parlato In lungo e in largo E credo che Il motivo principale Per il quale Kevin O'Connell Sia il capo allenatore Dei Vikings Sia proprio Per quello che è Il suo background Sia come giocatore Che come allenatore Di reparto E per questa sua fama Tra virgolette Di persona in grado Di identificare E far crescere Giovani quarterback Almeno questa è La speranza Dei Vikings Non ne sono Certissimo Che lui sia In grado Di fare Questa cosa Ma l'idea È quella Credo Che a lui Faccia molto bene Un periodo Di crescita Mi dispiace Soltanto Che noi Non abbiamo Il Come si dice Il Brett Favre Che ha avuto Aaron Rodgers E potrei farne Altri 500 Di esempi Di questo genere Il Drew Bledso Che ha avuto Tom Brady E così via Nel senso Che credo Che nello sviluppo Di un giovane quarterback Sia spesso Non sempre Ma spesso Importantissimo Avere una figura Di riferimento Diciamo Dalla quale Per la quale Diventare un po' Come la chioccia E il pulcino Questa è la prima È la È la È la prima domanda E c'è la prima risposta A questo giovane tifoso Che Ricordami la seconda domanda Perdonami Che mi sono commosso Chiedevo un po' La situazione Di Justin Jefferson Il contratto Se lo firma Soprattutto A che cifre Secondo te E se tu lo firmeresti Anche Questa Sei cattivello E E perché Ale Sempre deciso Sto Ale Taraschi Dice Costa troppo Lui è tirchio Eh Infatti Mi trova Su certi aspetti Mi trova d'accordo Nel senso Che squadre Che hanno vinto Il Super Bowl Perché avevano Un grandissimo ricevitore Non ne conosco tantissime E lui Vuole essere Il non quarterback Più pagato Della NFL Quindi Superare Bosa Blindare Una quantità Di denaro Simile In un giocatore Che non è un quarterback È È un Come posso dire È un È un rischio Molto Molto elevato Perché sei a un infortunio O comunque A una Due stagioni Non Anche perché poi Mentre il quarterback È il fulcro del gioco Il ricevitore Deve avere un quarterback Che gliela lancia Quella palla E Questo non possiamo Saperlo Se ce l'avrà Ci ho detto Io credo anche Che Diamine Ci stiamo sempre a lamentare Quando una squadra È priva di talento Quando poi ce l'ha Ti diventa un problema Metterlo a contratto Quindi Sono più contento Di dover stare qui A discutere Di se rinnovarlo o meno Che di non avere Questo problema Ci ho detto Proprio perché Tifo Vikings Da più di 40 anni Sebbene vorrei essere ottimista Credo che ogni giorno Che passa Sia come un minuscolo Come si dice Pezzettino di certezza Che se ne va Se ne sentono tante Si sente che vuole aspettare Già Marceis Che vuole aspettare questo Che vuole aspettare quello Perché vuole essere sicuro Di superarli tutti Io credo che questa cosa Non solo andava già fatta Ma andava già fatta E l'abbiamo detto Tante volte nel podcast Già l'anno scorso Quando magari Il prezzo sarebbe stato Anche più Come dire Appetibile No? Bene bene Grazie Quindi Alessandro Vai pure Sul sicuro Vai avanti a tifare Vikings Ma abbiamo una domanda Anche per Alex Perché Eccola qui La prendo Buongiorno Ascolto da tempo Alex In tutti i suoi podcast E ho letto tutti i suoi libri E quindi approfitto Della presenza Per credergli Se può ricordare Quel momento Anzi Quei momenti Del The Big Show Quando Alex Pontificava Justin Fields Come il figlio al brodico E poi come una musica Che improvvisamente Sale di un ottavo Cambia ritmo Si ritratta tutto E si cambia lato Della barricata Come mai caro Alex Grazie Il mio nome è Luca Chiavacci Ma chi è lo Sì? Chiavacci tra l'altro Io in realtà Sono stato abbastanza Fomentato La notte Del Del draft Di Justin Fields In particolare Da una persona Che sarà Sto schignazzando Ora E anche Da Alberto Cantù Peraltro Su Fields Ho provato A crederci Però poi C'è stato Questo insieme Di fattori Probabilmente legati Non lo so Un po' Al momento No Dei Bears Perché comunque Fields Si è trovato a combattere Una battaglia da solo Non aveva armi Non aveva difesa Gli è stata smantellata Una squadra Se Fields Si fosse trovato Probabilmente La squadra Che aveva Trubisky Sarebbe potuta Essere un'altra storia In questa fase Lui è stato Molto penalizzato Ecco Da quella che è stata La gestione I cambi E quant'altro Sia ai vertici Che degli allenatori Poi però È arrivato un momento Nel quale Ecco Ci si aspettava Comunque di più Nel senso Le giustificazioni Gli sono state date Fino a un certo punto Poi caratterialmente A me è parso Insomma Di Travedere un cedimento Da parte sua Poi In realtà Ho avuto modo Ultimamente Di incontrare Fields Con Addle Magazine Proprio a Milano E Di scambiarci Quattro parole Mi ha anche Dispiaciuto No Vedere una situazione Così Perché poi ho trovato Una persona gentilissima Disponibilissima Che è abbastanza Raro Quando ha a che fare Con delle superstar Di un certo livello Sumento Fields Era Lo sportivo Più importante Di Chicago A mani basse Considerando I quattro sport Insomma In generale Più seguiti Grande carico Di responsabilità Comunque Vabbè Non è andata Non è andata E il fantasma Di Caleb Williams Probabilmente Ha aiutato A fargli trovare La via d'uscita Nella maniera Forse Quasi più surreale Possibile Perché poi Un giocatore Col suo talento È un atleta Comunque straordinario Magari come quarterback Non esattamente Il profilo Da contendere Però come atleta Indiscutibile Vedere andarlo Vedere e mandarlo via In questa maniera Una sesta scelta È stato Vabbè Quasi imbarazzante Però Insomma Questo è Questo è stato Bene bene Ringraziamo Luca Chiavacci Ovviamente Per questa domanda Bene 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 Ultima prova L'ABC del football A rotazione I componenti delle squadre Dovranno dare la risposta Con le iniziali Che verranno loro suggerite Ogni risposta esatta Vi darà un punto Inizia quindi Alex Io Giorgio Direi di fare Un minuto Cosa dici? Ma sì Dai Dai Questi sono professionisti Dobbiamo torchiarli un attimo Perfetto Allora inizia Alex Con la lettera A Di Ancona Luis Protagonista musicale Del capitolo Sui New Orleans Saints In Adolin Music Luis Armstrong Bravissimo Con la D Di Domodossola Richard Grande Defensive end MVP al Super Bowl Vinto dai Bears Dent Bravo S di Savona Lovi Ed Coach Bears Tra il 2004 E il 2012 Smith Bene Con la R di Roma Il secondo nome Di Caleb Williams Futuro quarterback Bears Scelta Questo mi manca Caleb Williams Puoi passare Puoi passare Sì passo Passo perché non me lo ricordo Comunque era Rock One Con la O di Otranto Jonathan Protagonista della settima storia Di Prima dello Snap O Gden Bravissimo M di Milano Anthony O Festi Tecos Bengals Che meriterebbe un bell'articolo Per Adol Magazine Ah cosa te lo dice Giorgio Io basta ho chiuso Munoz Vale 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 Te lo do io buono Te lo do io buono Te lo do io buono Esatto Il mio altro di Mugno L'articolo a quattro mani Sarebbe Eh c'hai ragione Guarda Ce lo ripromettiamo sempre E ci manca Sempre Poi ce lo facciamo Dai ragazzi Non disperate Com'è andato Alex È andato bene È crollato un attimo Su Caleb Williams Ma ci sta il secondo nome Ora oggi è tiente Ci mancava di chiedersi Il soprannome della suocera E poi abbiamo risolto Cinque risposte esatte Non so un poche E quindi Frank Dovrà dare in meglio i sei Assolutamente Siamo pronti Quindi anche per Francesco Con la zeta di Zara Mike Nono head coach Della storia Vikings Eh Zimmer Correggio S di Savona È così chiamato il chant Urlo di battaglia Dei Minnesota Vikings Skoll Con la A di Ancona Jordan Prima scelta di Minnesota Al draft 2023 Edison Molto bene Con la P di Palerno Alan Storico Defensive tackle Numero 88 Vikings Dal 67 al 78 Page Bene Con la V di Verona E Purple Il primo podcast Vikings in Italia Eh Chiedete a Taraschi No scherzo Valhalla Bravo Bravissimo Con la K Eric Leader Vikings Nel 2021 Nella classifica Dei take-offs Eh Mi Me la ripeti Scusami Ti ho perso Con la K Eric Leader Vikings Nel 2021 Kendricks Kendricks Stop Ha fatto tutta scena Le sapeva benissimo Anche Kendricks Ha fatto finta Di non Così Di non sentire bene Per tenere Alex Sulla spide Ed è riuscito A superarlo Con sei risposte esatte Quindi Luca Non c'è Fantastico Frank Bravo Bravo Francesco Vuoi fare una dichiarazione Da uomo vincitore? Sì Vorrei fare questa dichiarazione In un'altra puntata Sempre con Giorgio Cavatton Mi aveva sconfitto E questa cosa A parte le battute E le frecciatie Nella chat Dei Vikings Io Come si dice La vendetta È un piatto Che va servito freddo Ho aspettato Questi anni E adesso posso Finalmente Come si dice Riprendere lo scettro Dopo la Quindi è un revenge game Non me lo ricordavo È un revenge game Siamo uno pari adesso Uno pari Ragazzi Allo prossimo Si farà finalissima Ecco Eh ci sta Ci sta Dovrete scrivere Io peraltro Sono sempre terrorizzato Dal confronto Sulla storia Con Frank Perché Frank È una macchina Ragazzi È la tua maniera Gentile per dire Che sono più vecchio Lo so Beh vabbè Sì Allora Diciamo che Questa puntata Ha insegnato una cosa Che se vi facciamo Domande serie Le sapete Quindi Luca Prossima volta Solo delle boiate Pazzesche Tipo sul numero Di scarpe Di uno O Il numero Della prima fidanzatina Ste robe qui Dobbiamo chiedergli Avevo il segno Todiacale Una delle Domande successive Ma Questa era bella Questa era bella Giorgio Che puntata è stata? Ma Puntata eccezionale Vabbè Quando ci si ritrova Con degli amici È sempre bello Io ci tengo Veramente Tanto Che i nostri Ascoltatori Chi non ce l'ha L'ha fatto Lo prenda Il libro Adeline Music Perché È stupendo E invece Chi ce l'ha già Se lo rileggo Ogni tanto Come faccio io Che Specie quando vado Al mare Mi ripiglio Un capitoletto Qua uno là Me lo leggo Anche perché Scorre via Veramente veloce E poi abbinarlo Leggendo il capitolo E ascoltando La canzone Veramente È una roba Secondo me Eccezionale È stata un'idea geniale E non poteva Che Essere interpretata Al meglio Da Due personaggi Geniali Come Alex E Frank Troppo buono Bene Bene Chiudiamo la puntata Alex oggi è perso Ma per noi Sei sempre vincitore Grazie per la partecipazione Grazie a voi ragazzi Di tutto Per l'invito Per il supporto E per questa realtà Piacevolissima Insieme E grazie anche Al vincitore della puntata Francesco Grazie Grazie davvero Per l'invito Per me Veramente È una gioia Passare del tempo A parlare Con delle persone Come voi Di Di football E poi È stato anche Un piacere Perché Finalmente Sono riuscito A chiacchierare Con Cavaton Che di solito Sono vocali E messaggini Velocissimi E sempre Ho da fare Sto lavorando Ho appena finito Di lavorare Quindi Vi ringrazio Per due motivi Peraltro Spesso Messaggini Di frustrazione Da ambe due le parti Solo messaggini Solo messaggini Di frustrazione Non c'è neanche Un ciao Come stai C'è Fica Che è partita Di merda Sempre così Frustrazione O insulti Ai Packers Sono le due Verranno tempi migliori Insomma Consigliamo davvero Adonin Music Perché poi Il legame Tra musica e sport È indissolubile La musica Ha il potere Di migliorare Le prestazioni atletiche Influenza Anche il tuo Stato nel mondo Crea un'esperienza Ricca Coinvolgente E secondo me Questo è un rapporto Dinamico Che continuerà A devolversi Trovando sempre Nuovi modi Per arricchire Il mondo Dello sport Quando questa cosa Verrà Noi di The Drive Ma anche Alex Ma anche Francesco Saremo pronti E sicuramente Sul pezzo Da Luca Rossi È tutto Ci vediamo Alla prossima E come al solito Keep in touch Let's get ready To rumble